Il problema si presenta piuttosto semplice ma ci permetterà di ricordare un'importante proprietà del concetto di densità. Innanzitutto leggiamolo. Una signora compra un ciondolo d'oro che occupa un volume di 5 centimetri cubi. Mettiamo questo fra i nostri dati 5 centimetri cubi. Torna a casa misura la massa e trova un valore di 90 grammi. Massa del ciondolo 90 grammi. Calcola la densità del ciondolo quindi la richiesta è quanto vale la densità. Il ciondolo è di oro puro? Spiega. Ecco quest'ultima è la parte più interessante perché noi sappiamo che la densità pur essendo definita come il rapporto fra la massa del corpo ed il suo volume è in realtà una proprietà del materiale che costituisce il corpo. Quindi se io avessi un corpo d'oro puro grandissimo oppure un piccolo ciondolo di oro puro la densità del materiale nei due casi sarebbe la stessa. Dunque la soluzione è questa. Calcoliamo la densità del materiale che costituisce il ciondolo. 90 grammi diviso 5 centimetri cubi. Le unità di misura possono andare anche bene così per ora. 90 diviso 5, non è il caso di usare le calcolatrici, fa 18 grammi al centimetro cubo. Ora bisognerebbe sapere qual è la densità dell'oro e andandola a cercare su una tabella si trova che la densità dell'oro vale 19.200 kg al metro cubo. Un'altra sezione di questa serie di lezioni sulla densità tratterà delle equivalenze fra unità di misura. Per adesso basti sapere che 19.200 kg al metro cubo equivalgono a 19,2 grammi al centimetro cubo. Quindi la conclusione è che il materiale che costituisce il ciondolo ha una densità inferiore a quella dell'oro. Ammettendo che il ciondolo sia tutto costituito di materiale, cioè non presenti delle cavità, evidentemente non è costituito solo d'oro ma da una miscela, da un miscuglio di metalli di cui l'oro fa parte ma di cui fanno parte anche altri metalli di densità inferiori.